Finalmente un posto dove andare per la Basilica del Volto Santo di Manoppello, ristorante Casa del Pellegrino, cucina tipica abruzzese, pizzeria e braceria, occhio al menù turistico. Nella nuova, moderna e accogliente struttura, anche comode camere per il soggiorno ed il relax, Casa del Pellegrino e bar-ristorante, hotel residence con sala meeting, in via Capuccini 26 a Manoppello, telefono 085 85 98 28. Seguici anche sul nostro sito internet. Ah, un'ultima cosa, che poi devo andare, che qui sono già le 10. Guarda un po'. No, non ci credo. Torni per i miei 70 anni. Che potevo mancare, secondo te? Allora, ti preparo il solito letto? Sì, ma da oggi in poi li festeggeremo tutti insieme. Torno in Italia, per sempre. Davvero? Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 04 07. Sì, ho sentito bello, 100 04 07 01 07 09 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 20 09 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 E Will整 They Do L 이런 con cui diAAAA A prestitare il themselveso,Betopooнь, 考ere il sono ma Gentle di strutare il enfants Di Willy, e pé Prime Autagogia diz的話, probabilità della cello operate e dei studenti che, ben trovati nell'angolo dello sport stavo dicendo all'amico ragneri renato eccolo qui si vede che ha preso il sole ed è felicemente assiso quasi sulla poltrona credo che sia questa la poltrona di ermanno ricci ma non è che lui ha fatto un atto di forza ermanno ricci che ha fatto un atto di debolezza ma come basta un pizzico di febbre per tenerti lontano tu che sei un uomo che sei stato sempre un lottatore un guerriero ma con la febbre dovevi stare qua insieme a noi soprattutto perché è la prima vittoria del pescara giusto no vero il professore ermanno ricci doveva stare però ci sta lo stesso perché è un nostro amico perché gli vogliamo bene lo rispettiamo quindi ermanno stai qui insieme a noi anzi se devi dire qualcosa telefona a leo al regista che ce lo passerà e risponderemo allora renato tu ermanno ed io abbiamo commentato la partita di cremona abbiamo detto che lì anche il pescara bene o male aveva meritato con il secondo tempo il pareggio giusto giustissimo ancorché è arrivato proprio risultato negli ultimi corriandoli di secondi si può dire così con una immagine di colore lo dici tu allora dovevamo avere la conferma giusto certo allora tu sei stato dallo stadio questa conferma l'hai avuta o no beh i presupposti c'erano agli iniziali bravi perché io con te mi voglio lanciare un pochino perché con ermanno devo stare attento perché adesso telefono ermanno lo ha confessato sai che io sono l'unico giornalista in italia che dice sono tifoso del pescara e io glielo ho sempre rimproverato ermanno tu sei un giornalista professionista tu devi essere il critico nel bene e nel male anche perché il tifoso vuole sapere da te certe realtà ma se tu ti metti a fare il tifoso come il tifoso e allora le verità non usciranno mai allora pur rispettando pillone pur rispettando i ragazzi pur accettando di a buon viso proprio questa vittoria se c'è qualcosa che non vale dobbiamo dire ma soprattutto anche perché siamo all'inizio del campionato appunto quindi sarà abbastanza ancora lunga la stagione c'è il tempo di mediare di correggere quello che c'è da correggere pescara mi stava piacendo fino ecco al trentacinquesimo se non sbaglio il momento in cui balzano ha commesso quell'errore che ha poi determinato il calcio di rigore a favore del rigore regalato meno male che è stato sbagliato ma da quel momento in poi il pescara un po si è perso stranamente che ha fatto si è perso perché uno dice si è perso che significa ha perso la strada si è ha perso bloccato bravo secondo me è questione di cervello poi parliamo perché con te posso divertirmi ad allargare ci dobbiamo divertire parliamo di mental coach dopo perché è molto importante soprattutto quando la gente tira i rigori il pescara che cosa ha fatto si è tirato un pochino indietro perché probabilmente ha avuto paura di non farcela la paura di vincere cioè quella che i tennisti chiamano il braccino corto no però resta il fatto caro renato che il pescara ha giocato in maniera dignitosa vero certo il pescara in generale complessivamente mi è piaciuto ecco poteva ecco evitare quei momenti di come diciamo noi di come stiamo dicendo adesso di di oloco di ombra che ha poi determinato i momenti di paura al tifoso e io che stavo lì insomma un po di paura soprattutto alla fine l'ho avuta i tifosi anzi c'è stato un tifoso che mi ha telefonato per dirmi gianni per fortuna non ho visto gli ultimi cinque minuti se non me lo sarei fatto gli ultimi cinque minuti e ti ho visto che il pescara stava vincendo 2 a 1 me ne sono andato felice e tranquillo anche perché pioveva ma poi ho sentito che c'è stato un palo secco netto e lì poteva succedere anche poi alla fine il salvataggio sulla linea che non è stato il 2 a 2 poteva arrivare poteva arrivare allora diciamo una cosa siccome sono stati io credo che si possa dire che i tre rigori sono stati importanti nel bene e nel male allora diciamo nel male per quanto riguarda il Livorno tu arrivi metti la palla sul dischetto è vero che c'è una porta davanti che a quel punto sembra enorme però è pure anche vero che tu sei solo davanti al portiere hai la possibilità di stravolgere tutto perché il risultato se fosse passato in vantaggio il Livorno forse il risultato poteva essere anche un altro giusto o no Renato? giustissimo allora tu sbagli il rigore io dico fatelo parare no lo sbagli proprio arriva Cocco invece altri due rigori il primo rigore secco tranquillo il secondo rigore lì è stato sbagliato io ho definito questa partita una partita bagnata è una partita fortunata per tutta una serie di situazioni di cose che sono accadute nella partita dal rigore sbagliato di Giannetti del Livorno che veramente quello è stato proprio un errore clamoroso si l'ha tirato proprio fuori l'hai tirato proprio l'ha tirato proprio male e il rigore il secondo quello di Cocco che pur tirato meglio però è stato fortunato perché il partito il portiere di solito parato c'erano i grandi allenatori del passato io mi rifaccio sempre molto al passato perché sono datato anche perché i giovani conoscono il calcio da Gianni Galeone in avanti io mi ricordo i Piselli come allenatore per esempio mi ricordo i giocatori Mario Tontonati colgo l'occasione per ricordare che tra poco uscirà il libro una biografia romanzata di Mario Tontonati che qualcuno forse dimentica che ancora oggi è il goletatore del pescato 120 gol non li ha segnati nessuno questo è importante per noi giovani detto questo Piselli diceva se capitano due rigori una partita io li faccio tirare da due giocatori diversi perché quando un giocatore è soddisfatto per il gol che ha segnato il secondo gol c'è un po' scarico tu che dici? giusto ma guarda a vedere la partita con me c'era mio padre un grandissimo tifoso quindi anche lui datato no? datato e ne ha viste di partite del pescato e al secondo rigore lo dico in abruzzese in pescato e se mi ha detto ma ne hai nato per fare un rigore del pescato? bravo bravo ecco prima ancora che tirasse prima ancora che facesse gol e Cocco era fatto e poi è andato tutto bene però l'impressione è questa mio padre veramente mi ha detto ma ne hai nato il pescato per fare un rigore? senza aveva capito che psicologicamente parliamo allora di questo mental coach il mental coach che sembra una parolaccia ma non lo è non è altro che lo psicologo colui che cura mentalmente le reazioni dei giocatori qualche giocatore di troppo in Italia perché il mental coach in Inghilterra è già normale qualche giocatore anche importante ma io mica sono pazzo io mica sono uno che ha bisogno dello psichiatra ma insomma viva Dio il mental coach è una cosa e lo psichiatra ne è un'altra ma probabilmente parlando in questo modo avrebbe bisogno invece di uno che lo acculturasse un pochino perché se non capisce questo il mental coach serve proprio a far scaricare le tensioni ai giocatori perché io ho l'impressione e ti chiedo confermo o meno caro Renato che molti giocatori ancorché bravi e noi possiamo parlare dei nostri ragazzini parlo di un capone parlo dello stesso gravillon che per strafare certe volte fa danni cioè che si trovano ad avere degli imbarazzi dico imbarazzi per dire degli errori proprio perché mentalmente non sono preparati sì ma è anche vero che appunto stiamo alla seconda giornata di campionato e secondo me il 4-3-3 di Pilonne si vede che c'è si vede il manico dell'allenatore ma non è oliato e anche questi innesti di giovani consideriamo che comunque sono state fatte due partite comunque alla seconda giornata di campionato il Pescara ha giocato con una formazione nuova per 5 undicesimi di cui questi due nuovi esordienti dal portiere Castrati a Melegoni sì bravi e noi e poi ci sono anche se non è all'esordio ma Antonucci è nuovo della categoria cioè parliamo di una squadra non giovane di più è chiaro non possiamo pretendere da loro il gioco spumeggiante che ho gli schemi già imparati e conosciuti a memoria considerando anche che ieri è stata una giornataccia meteorologicamente parlando bruttissima con un'acqua che poi è quello che ha condizionato anche il gioco è diventato molto pesante senza dubbio ecco tanti aspetti ecco come dicevi tu prima il fatto che il Pescara ecco adesso si riposerà la prossima è un fatto positivo è un fatto positivo certo è certo certo sicuramente adesso si conviene fermarsi approfittare di questa sosta ecco per continuare ad oliare questo 433 bene o comunque gli schemi imposti dall'allenatore Renato a questo punto il nostro amico Ermanno Ricci avrebbe cominciato a dare i numeri ma non perché se ne riusciva fuori di testa a dare i numeri perché ci raccontava che cosa è successo? allora vuoi per favore prendere il posto di Ermanno e darci tutti i numeri di questa giornata? approfitto sì grazie allora Gianni edo i risultati della seconda giornata Palermo Cremonese 2 a 2 e questo è un risultato che ci fa piacere sì perché vuol dire che il pareggio nostro a Cremona insomma aveva un po' ma guarda la Cremonese che abbiamo dominato nel secondo tempo comunque sicuro controllato in maniera molto bene bene la Cremonese fare due gol a Palermo bene andiamo a l'arte Carpi Cittadella ha vinto il Cittadella 1-0 a Carpi beh farei qui una piccola riflessione mi consente Renato il campo sono due partite che perde sì a Cittadella sono due genellini e qui c'è qualche cabarello che non va c'è qualcosa che non va ma sicuramente come diceva anche Ermanno sì l'altra volta Cittadella può anche essere la sorpresa la mina vagante del tempo di questo campionato e poi qui è successo ecco senza Verona 0-0 ma è stata rinviata per impraticabilità del campo noi dobbiamo aspettare ancora perché noi siamo a lunedì ma il mercoledì c'è l'intervento dell'aggiudicante è possibile che diano il 3-0 a tavolino beh sì perché non è che è stata rinviata per pioggia per un evento particolare perché non hanno lavorato il tempo utile per rizzollare il terreno parliamo di un campionato di serie B neanche parliamo di seconda, terza, quinta categoria semmai si sa andiamo avanti Padova-Venezia 1-0 Spezia-Brescia 3-2 Pescara-Livorno 2-1 Crotone-Foggia 4-1 Lecce-Salernitana 2-2 Perugia-Ascoli 2-0 ha riposato per questa giornata il Benevento a seguito di questi risultati la classifica è la seguente Cittadella a punteggio pieno a 6 punti a 4 Pescara-Perugia e Padova a 3 punti Crotone-Spezia e Venezia a 2 punti Lecce-Cremonese-Palermo e Salernitana ad un punto Benevento-Cosenza-Verona-Brescia a 0 e Ascoli a 0 Livorno e Carpoli il Carpi il Foggia meno 5 che deve Tra queste posizioni di classifica ce n'è qualcuna che ti sorprende o in positivo o in negativo e perché? A parte il Cittadella appunto come dicevamo prima il punteggio pieno anche se Cittadella adesso che ci ripenso sono diversi anni che parte molto bene raggiunge subito risultati ottimi poi si perde sono quelle mentalità di alcuni allenatori che dicono ci hanno questa frase mettiamo il fieno in cascina quindi dicono fammi approfittare mentre gli squadroni partono a rilento perché sanno che devono vincere il campionato quindi fare tutto io faccio le prime 10 partite metto punti e mi salvo può anche essere e il Perugia il Perugia ha una buona squadra il negativo qualcuno? ma il negativo premesso ecco mi collego anche a una cosa che avevamo detto anche l'altra volta il 7 settembre ricordo che c'è la sentenza in merito alle società che non sono state ripescate per cui il campionato sarà a 19 a 20 a 22 c'è il rischio che la Serie B dalla terza giornata adesso lo si ripose quindi dal 14 settembre ci sia una rimodulazione del calendario quindi è una classifica un po' particolare caratterizzata dalle partite da recuperare le società che hanno riposato o meno il Cosenza e il Verona non hanno giocato quindi forse il Benevento forse il Benevento dovrebbe stare un po' meglio invece come classifica appesantita le società che sono retrocesse l'anno scorso della Serie A sicuramente sono più avbandaggiate sono le favorite il Benevento alla squadra il Benevento alla squadra per giocarsi la Serie o per vingere il campionato proprio e oddio trovarlo qui trovarlo qui ha una partita da recuperare perché si ha riposato questo weekend eh qualcosina un po' un punto solo insomma non è buono senti partiamo adesso per adesso comincio io a spaccare i capelli in quattro cioè comincio a diventare l'antipatico del tifoso però io non vado cercando la simpatia vado cercando la possibilità di spiegare prima a me stesso poi ai giovani soprattutto perché agli anziani non puoi dire nulla che capiscono tutto loro ma ai giovani vorrei dire questo è vero che il Pescara ha vinto siate felici però cominciate a riguardarvi come dicono lì i tecnici tipo il nostro regista gli highlights no? cominciate a vedere le immagini della partita e vi renderete conti una cosa che sia il Livorno e sia il Pescara hanno fatto tanti troppi errori errori di troppo che squadre di serie B non dovrebbero fare siete d'accordo su questa valutazione? sì è vero anche che il livello in generale della serie B è molto basso è vero che siamo all'inizio lo ripeto però è molto basso il Livorno non ce lo dimentichiamo è una società che è stata appena promossa diciamo quindi è una società l'esordio in questo campionato anche se è una società che ha una storia e ha un passato importante però comunque è la società che è stata promossa il Pescara ha giocato una neo promossa io mi aspettavo gli errori non del genere infatti durante la partita dal Pescara dal Livorno ci poteva anche stare ma il Pescara ha commesso ecco quei 4-5 errori che se giocavi contro il Benevento venirei punito beccato parlando del Benevento fammi fare una domanda provocatrice però senza cattiveria allora il nostro presidente ha detto abbiamo i giovani più forti della Serie B per certi versi potrebbe anche avere ragione per certi versi però siccome la squadra è un coacervo di realtà giusto? giusto tecniche tattiche mentali soprattutto allora tu non puoi pretendere che il ragazzino per quanto sia bravo possa arreggerti la carretta e tirarla fino alla fine del campionato quindi ci vogliono delle alternative ed ecco la domanda provocatrice secondo te questa squadra questa rosa è completa o no? oh che domanda oh che bella domanda oh che bella domanda e questa è la stessa domanda che magari se la facevi all'inizio del campionato quando c'erano i vari mobili e insigni no? magari qualcuno anche io forse per prima avrei detto che la squadra era incompleta poi si è dimostrata quella che è e sappiamo il valore di quei giocatori sì sì secondo me oggi è incompleta manca non tanto di qualità dei giocatori che c'è sì ma di esperienza bravo e comunque a quell'epoca i vari mobili insigni comunque venivano da campionati fatti e ne puoi sperare sempre nel manico voglio dire io ricordo oggi abbiamo ecco li leggo perché se no sbaglio a dire castrati vabbè giocherà poco perché il titolare è Fiorillo però i vari Melegoni i vari Antonucci sono troppo giovani hanno bisogno sì di giocare di emergere è giusto però ecco devono essere appoggiati il Piscara soprattutto deve essere coadiuvato nel gioco di persone di una certa esperienza infatti qualche tifoso è rimasto sorpreso quando ha sentito la formazione ufficiale sorpreso per l'ingresso di Campagnaro poi invece a Berlifrezzi Campagnaro oltretutto ha fatto anche una buona partita questo è un modo anche per compensare esperienza in esperienza è bravo perché diciamoci la verità anche del grosso esatto Ermanno Ricci lo ha messo in evidenza in un suo intervento su un social dice il fatto di Gravioni Gravioni è un bel ragazzo un bel giocatore tutto quanto però certe volte ti fa stringere il cuore per esempio se non altro perché è perché è troppo irruento è troppo arriva che tu nei 90 minuti dici questo si fa cacciare o ti fa beh domenica ieri diciamo non è tanto per colpa sua però insomma ci ha messo anche del suo ci ha messo anche del suo ci ha messo anche del suo certo senti quando io parlo di squadra incompleta voglio intendere anche questo la difesa bene o male con l'esperienza di Campagnaro con Del Grosso che ha cercato di fare la sua partita però abbiamo delle alternative insomma perché ragazzi che stanno in panchina che forse fornassie forse si potrebbero anche far vedere voglio dire a centrocampo no non c'è problema secondo me perché abbiamo veramente il centrocampo del pescara è il centrocampo secondo me più forte della serie oh Memushai è un generoso lotta anche se ieri Memushai si poi c'è Bruckman che alterna un pochino troppo la luce è intensa la luce è un po' soffusa però è un signor giocatore Maschin che non c'era ieri però è un bel ragazzo anche lui c'è questo giovane Melegoni che potrebbe anche crescere però dove io ho delle perplessità scusami non so se ci troveremo d'accordo in sintonia e sull'attacco perché perché tolto Cocco che è generoso che corre che si che si sbraccia che fa tanto non punge non punge quando abbiamo detto prima della partita come l'hai vista il Pescara ha giocato bene si ha giocato bene con tutti i limiti gli errori che sono stati commessi eccetera però effettivamente se andiamo a vedere sul 57% di possesso palla del Pescara contro il 43 sì del Livorno contiamo le volte in cui si è tirato in porta quante volte ha tirato il Pescara e quante volte ha tirato il Livorno mi sono stampato una stampa con le statistiche il Livorno ha tirato più in porta del Pescara il calci d'angolo il calcio d'angolo il calcio d'angolo sono 11 a favore del Livorno e 7 a favore del Pescara cioè si vede che c'è stato un gioco di attacco sopportato anche dagli attaccanti del Livorno maggiore rispetto a quelli del Pescara questo è un problema che comunque ripeto abbiamo giocato contro il Livorno una neopromossa quando andremo in campi difficili il prossimo presidente è Brescia che non è da sottovalutare ma quando andremo a Foggia a Perugia andremo a Benevento bisogna stare ecco perché allora io dico sempre non so se posso chiedertelo io dico l'entusiasmo sì l'esaltazione no l'entusiasmo è il cuore il fulcro senza entusiasmo non si riesce neanche a vincere quelle partite pazzesche allora Renato io approfitto della tua presenza perché sei un tifoso atipico perché sei un tifoso acculturato sofferente diceva il buon qui non è una digressione politica o partitica parliamo di un uomo colto Grammci diceva sempre studiate 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 e se vi avanza del tempo studiate ancora studiate ancora questo Grammci oggi invece ci dicono mi sono laureato con la CEPO e i risultati vedono i ponti crollano le persone entrano in ospedale con piccolo guaio escono morti e bisogna e allora io dico c'è una novità adesso nel campionato italian anche della Udinese che cerca sempre di anticipare le cose in Inghilterra io l'ho visto fare da tantissimi anni noi ci conosciamo da poco ma io non so se sai ho avuto diverse esperienze giornalistiche all'estero perché io sono partito alla grande da giovane poi piano piano mi sono ritirato per una pescarezzità che alcuni non hanno saputo apprezzare cioè io mi sono trovato in un certo momento della mia vita anche perché condizionato dal fatto di avere otto figli quindi volevo starmene a casa con i miei ragazzi però diciamo semplici ma se tutti ce ne andiamo non per fare il presuntoso ma comunque hai preferito casa o preferito starmene a pescare e fare il giornalista a Pescara e l'ha fatto anche bene grazie molto bene allora c'è questa novità di avere non soltanto prima abbiamo parlato del mental coach adesso parliamo invece dell'uomo tattico del tecnico il quale se ne sta in tribuna guarda la partita dall'alto vede tutti i movimenti e con il suo telefonino parla con il secondo il quale secondo dice al primo guarda che ci stanno premendo troppo a sinistra ci stanno premendo troppo a destra e compagnia bella ieri si è visto per esempio che l'allenatore del Livorno Lucarelli ha avuto ad un certo punto un coraggio pazzesco quando ha messo dentro Diamanti quando ha messo dentro Murillo il ragazzino e lì ci sta per fare ma guarda l'atteggiamento di Lucarelli è fatto bene a dirlo questo l'atteggiamento di Lucarelli è stato chiaro sin dall'inizio perché Murillo lo voleva far entrare a posto di Giannetti sin da subito poi si è un po' infortunato Giannetti e quindi la cambiarono ma lo voleva far giocare sin dall'inizio poi non lo ha fatto giocare ma lo voleva subito cambiare perché la sua mentalità era quella che a Pescara voleva fare il risultato meno male non ci è riuscito però la sua mentalità è stata quella Renato io mi dispiace se devo dire una cosa non ce ne siamo accorti perché la trasmissione è volata io ti ringrazio perché è volata bene abbiamo un solo minuto abbiamo bruciato tutto abbiamo bruciato il nostro tempo a nostra disposizione per ti do la possibilità di salutare l'amico Ermanno quindi ti do un minuto per salutare il professore beh Ermanno a parte che ti aspettiamo qui spero di essere stata alla tua altezza nel dire e dare i risultati e i numeri nel senso buono e i numeri quelli di giornata quelli sicuramente li avrò dati non ci sono problemi l'unica cosa che non abbiamo voluto fare Ermanno è sostituirti nella scelta musicale quello tra te e la signora Paola siete talmente bravi non abbiamo voluto intervenire non ci siamo assunti questa responsabilità va beh allora intanto ringrazio Renato mi facevi vedere la prossima ah la prossima veloce veloce la prossima giornata la terza che appunto si giocherà dal 14 settembre l'anticipo sarà Venezia Benevento venerdì bella partita e poi seguiranno gli altri le altre che sono Ascoli Lecce Brescia Pescara Cittadella Cosenza Cremonese Spezza Verona Carpi Salernita Napadova Foggia Palermo Livorno Crotone Riponza due belle partita Foggia Palermo un'altra bella partita anche Brescia Pescara senza dubbio allora un affettoso abbraccio a voi tutti come sempre da Gianni Lussoso ringrazio Renato che è stato un compagno di buona serata a tutti ciao Ermanno ciao Ermanno e soprattutto un grazie al nostro regista Leo Di Blasio appuntamento io dico a lunedì prossimo perché Ermanno credo che tu sia d'accordo che è vero che il Pescara non gioca ma è anche vero che avremo la possibilità qui per la nostra mezz'ora di parlare e commentare la preparazione del Pescara in vista della ripresa guardi Gianni anche la sentenza del 7 settembre bravo bravo questo è importante quella del 7 settembre quindi ci ritroveremo qui lunedì prossimo ciao a tutti ciao a tutti ah un'ultima cosa che poi devo andare che qui sono già le 10 guarda un po' no non ci credo torni per i miei 70 anni li potevo mancare secondo te allora ti preparo il solito letto si ma da oggi in poi li festeggeremo tutti insieme torno in Italia per sempre davvero si hai sentito bene istituto acustico MAICO 800 03 04 07 finalmente un posto dove andare per la basilica del volto santo di Manoppello ristorante casa del pellegrino cucina tipica abruzzese pizzeria e braceria occhio al menu turistico nella nuova moderna e accogliente struttura anche comode camere per il soggiorno ed il relax casa del pellegrino e bar ristorante hotel residence con sala meeting in via cappuccini 26 a Manoppello telefono 085 85 98 28 seguici anche sul nostro sito internet a Manoppello a Manoppello a Manoppello